Qual è il modo migliore per chiudere l'anno di pubblicazione su questo canale? Ovviamente, una merdlist e una toplist. Io sono Valerio Villani e ti do il bentornato sul mio canale e in questo nuovo video che sarà il primo speciale di fine anno della storia del nostro canale YouTube. Un appuntamento annuale in cui spaliamo merda sulle peggiori aziende del 2023 e premiamo quelle migliori. Per questo abbiamo preparato una bella merdlist che conterrà la lista di quelle che sono state le aziende peggiori di questo 2023 e una bella toplist che invece conterrà quelle che stanno provando a rendere la vita più vivibile ai loro dipendenti. Prima di iniziare con queste due classifiche però voglio ringraziarvi veramente per tutto il sostegno che mi avete dato nel corso di quest'anno. Come vi dico sempre, ogni like, iscrizione, commento è un supporto in più ed è una motivazione in più per spingermi a continuare con la creazione di contenuti e vi voglio veramente ringraziare. Per ringraziarvi di questo supporto vi ricordo come sempre che in descrizione, iscrivendovi alla mia newsletter, potete ottenere tutte le risorse gratuite che preparo, quindi listone delle domande al colloquio, checklist per la ricerca di lavoro, studio di retribuzione, quindi davvero ci trovate di tutto. E per quelli che invece stanno cercando di fare lo step successivo della propria carriera o hanno un po' di difficoltà nella ricerca del loro lavoro da sogno, sempre in descrizione trovate tutti i link ai miei servizi, le mie consulenze, i miei corsi e alla Career Academy che conta ad oggi oltre 50 studenti che si impegnano ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi. Ma detto questo, siamo pronti per iniziare. Iniziamo dalla toplist, due società di consulenza che abbiamo maltrattato tantissimo nel corso dei nostri contenuti, ma che in questo 2023 stanno veramente cercando di migliorare la vita ai propri dipendenti. E sto parlando di Accenture e PwC. Allora, mi spiego, non sono tra le migliori cinque in assoluto, ma sono tra quelle che si stanno impegnando di più per dedicare ai loro dipendenti delle soluzioni lavorative decenti rispetto a quanto invece avevano fatto fino a quest'anno. Sto parlando di smart working, benefit, feste, viaggi, insomma, ci stanno provando e vanno premiate. Un piccolo consiglio per queste due aziende, se proprio vogliono fare il definitivo salto di qualità, cacciate i soldi. La cosa importante per i dipendenti, sì, il benefit, sì, il viaggio, i maneskin che vengono a cantare, i soldi, lo stipendio. Questo fa la differenza. Andando avanti con la top list delle aziende italiane nel 2023, al quarto posto in classifica, troviamo un'azienda che abbiamo visto sempre ai vertici di tutte le classifiche che abbiamo fatto e che si riconferma e va premiata. E sto parlando di Bending Spoons. Niente da dire, sta diventando il sogno europeo di tutte le figure informatiche e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, propone salari competitivi, ottimi benefit, insomma, tutto top. Un piccolo neo, l'iter selettivo, come ovvio che sia, è difficilissimo da superare, presenta test logici, valutazione del curriculum, insomma, è molto molto complicato, però per un'azienda che attrae così tanti talenti ce lo dobbiamo aspettare. Sul gradino più basso del podio invece di questa top list troviamo un'azienda che abbiamo insultato, forse è quella che abbiamo veramente insultato di più, però negli ultimi anni veramente c'è da togliersi il cappello. E sto parlando di Amazon. Amazon è riuscita a rinnovare il modello di gestione delle risorse, scandendo meglio i ritmi di lavoro, aumentando i salari e inserendo dei percorsi di carriera chiari che contribuiscono logicamente al miglioramento del benessere dei propri dipendenti. Quindi complimenti a loro e soprattutto una cosa che mi ha colpito tantissimo perché dovete sapere che dietro questa top list e questa merd list che dopo vedremo, c'è tantissimo di quello che mi raccontate in privato, quindi diciamo che io sono un insider ad avere queste informazioni, è da veramente forse quasi tre anni che non ho più nessuno che si lamenti del lavoro in Amazon. Quindi hanno veramente fatto un lavorone sotto questo punto di vista e vanno premiati. Al secondo posto nella nostra personalissima top list, cioè quindi delle migliori aziende italiane del 2023, troviamo un'azienda che abbiamo visto in tante classifiche e che però prima di vederla insieme in tante classifiche era quasi sconosciuta e ha fatto salti di qualità da gigante. Sto parlando di A2A. Multinazionale del settore energy che assume tanto, paga tantissimo, offre dei benefit pazzeschi come buoni pasto da 13 euro e tanto altro e sono i leader del loro settore, del settore energy. Quindi innovano, quindi fanno crescere le proprie risorse e quindi praticamente sono tutto quello che si possa desiderare in un'azienda in cui lavoriamo. Ed infine, al primo posto per chiudere la top list, troviamo proprio lei, quella che mi sono sentito di inserire come primo posto perché è un'eccellenza italiana, perché ha un ottimo brand e perché raga, ha veramente tutto, tutto, tutto. E sto parlando di Luxottica. Luxottica ha la fortuna che oltre a pagare tanto di stipendi e offrire benefit di altissimo livello ai propri dipendenti, come abbiamo visto anche in ogni altra classifica dove è presente, ha un brand oggettivamente figo, noto in tutto il mondo e che fa dei prodotti riconoscibili. Quindi merita appieno il primo posto in classifica. Ok, via le cose belle. Ora è il momento della nostra Merdlist. E se ci trovi anche la tua azienda preferita? Cosa molto probabile, tra l'altro. Ma vediamola insieme. Prima un piccolo appunto sulla nascita della Merdlist. Come sapete, reperire informazioni negative online sulle aziende è molto complicato. Quindi per la creazione di questa Merdlist mi sono basato, appunto, primo sulle recensioni di Glassdoor, ho provato a cercare quelle più sincere, quindi quelle che descrivono al meglio il lavoro e la qualità del lavoro, ma poi soprattutto, raga, ho parlato con tantissime persone che lavorano e hanno lavorato in queste aziende e mi hanno confermato ogni sospetto. Quindi è giusto citarle e nominarle nella speranza che migliorino la qualità del lavoro per i propri dipendenti. Al quinto posto di questa Merdlist troviamo tre aziende, tre società di consulenza, che a differenza di PVC e Accenture, sono ancora ancorate a un modello di gestione arcaico. E mi sto riferendo a EY, KPMG e Deloitte. Tra le tre c'è da ammettere che almeno Deloitte ha concesso un po' di remote working ai propri dipendenti, ma prende progetti atroci. Ad oggi non ho conosciuto un solo singolo lavoratore che sia soddisfatto del proprio lavoro in KPMG, Deloitte o EY. Progetti noiosi, job description confuse e altisonanti e nella pratica tantissima gente che preferirebbe scappare e andare altrove già dopo soltanto un anno di lavoro in queste realtà. E le dobbiamo citare perché devono sicuramente cambiare qualcosa e soprattutto dovete sapere che fanno schifo e le dovete evitare. Va bene? Al quarto posto invece di questa merdlist vi cito un'azienda non tanto per la qualità del lavoro, quanto perché sono convinto che sta facendo delle cose molto negative e dannose per quanto riguarda gli iter selettivi. E mi sto riferendo a Credem, la banca. A quanto pare Credem sta promettendo talent program in tutta Italia, fa una marea di colloqui e di iter selettivi, promette feedback e non è minimamente capace di gestire le aspettative dei propri candidati e dei poveri neolaureati, delle povere persone che si trovano coinvolti in questi iter selettivi. Mi permetto di insinuare che credo che questi iter siano fatti soltanto per far conoscere un po' il brand Credem tra i giovani, anche perché ho parlato con tanti ragazzi che hanno svolto questi iter e non ho ricevuto nemmeno il feedback. E questa cosa è strana. Per quanto riguarda questo punto, io sono d'accordo che l'annuncio di lavoro è un'opportunità di marketing, è un modo, uno strumento di marketing per le aziende, perché tu non solo stai facendo talent attraction, ma stai facendo brand awareness, ti fai vedere. Infatti, se notate, ci sono tantissime aziende che hanno l'annuncio perma-sponsorizzato sui vari siti di ricerca, o magari fate un iter selettivo e dopo una settimana ritrovate lo stesso annuncio, è prevalentemente per questo motivo. Però non bisogna manco giocare così tanto con i candidati, soprattutto se sono giovani. La cosa brutta è che purtroppo questa cosa non si può riparare, quello che possiamo fare è rendercene conto e andare avanti. Sul terzo gradino del podio di questa merdlist, cioè delle peggiori aziende del 2023, troviamo Invitalia, un'agenzia governativa italiana e partecipata dal Ministero delle Finanze. Iter selettivo pessimo, non dà feedback, vi mostro degli screen assurdi che ho ricevuto da alcuni candidati che hanno svolto delle selezioni con loro e vi faccio vedere anche una recensione molto dettagliata sul lavoro con loro che ho trovato su Glassdoor e che risale a settembre di quest'anno. Ha elencato esattamente tutti i feedback che ho avuto dalle persone che ci lavorano dentro. Si può decisamente fare meglio, decisamente. Al secondo posto delle aziende peggiori di questo 2023, quindi di questa bellissima merdlist, troviamo un'azienda che purtroppo era la mia azienda preferita, ma che da un anno a questa parte non ci sta capendo un cazzo. Sto parlando di Enel. Enel negli ultimi dieci anni è cresciuta tantissimo basando il suo modello di business su due principi, innovazione e sostenibilità. avendo alla sua guida Starace e Ciorra, due eccellenze europee su queste tematiche, e dal cambio di management che ha fatto quest'anno e l'anno scorso, non ci sta capendo più niente. Le risorse che conosco e che ci stanno lavorando dentro mi hanno confermato che si è diffusa una disorganizzazione generale. Infatti, se notate, le assunzioni per profili corporate, quindi interni all'azienda, sono molto meno. i feedback sono lunghissimi. Ho sentito di Eater partiti a gennaio dell'anno scorso e che a settembre non hanno ancora ricevuto una conferma o nessun tipo di feedback. E sembra proprio non esserci più una direzione chiara e precisa. E per questo devo necessariamente, per forza di cose, inserirlo al secondo gradino del podio di questa merdlist. Ci siamo. Siamo nel momento di gran lunga più complicato del video. Perché l'azienda al primo posto farà incazzare moltissimi e moltissime di voi. Probabilmente anche la vostra azienda preferita. Purtroppo però dovete sapere che è una grandissima monnezza. E mi sto riferendo purtroppo all'amatissima Ferrari. Se sei una persona sana di mente e mediamente intelligente, ci sono soltanto due motivi per lavorare in Ferrari. Il primo è perché sei di Maranello, quindi oggettivamente è vicino casa tua. E il secondo è perché sei un fanatico o una fanatica del settore automotive e in particolare del brand Ferrari. Non ce ne sono altri. Stipendio basso, welfare modesti, si annoverano soltanto mensa aziendale e bonus produzione. E per me il fatto di fare talent attraction sfruttando il nome del brand senza dare nulla di valore in cambio ai propri dipendenti, anzi, acquisendo risorse veramente in gamba e sottopagandole è scandaloso e merita il primo posto in classifica. Raga, questo primo speciale di fine anno volge al termine. Abbiamo visto sia la top list sia la merd list. Mi dispiace se sono andato giù pesante, però era necessario farlo. Fatemi sapere la vostra opinione e soprattutto se bisogna integrare qualche azienda tra le top o le flop di quest'anno. Come sempre voglio invitarvi a lasciare un like per supportare i contenuti e attivare la campanellina per non perdervi prossimi. Sono attività gratuite e per me e per il progetto sono molto molto importanti. Condividete il video con qualche amico e parente e per quest'anno è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo l'anno prossimo.